Scene da Far West nelle campagne di Gela, dove in un'operazione congiunta carabinieri e polizia hanno arrestato due pastori. Le manette sono scattate per Orazio Di Pietro, di 36 anni, pluripregiudicato e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Gela e per Luciano Russotto, 71 anni, anche lui, pregiudicato. Al culmine di una lite legata allo sconfinamento dei rispettivi pascoli, Russotto avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all'indirizzo di Di Pietro, ma da una distanza tale da non poterlo attingere. Lo avrebbe anche minacciato di morte. Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto, hanno proceduto ad una perquisizione nell'abitazione rurale di Contrada Spina Santa, appartenente a Russotto. Sotto i cuscini di un divano presente nel vano scala del casolare destinato all'attività pastorizia, hanno rivenuto una doppietta calibro 12 e quattro cartucce. Altre cartucce sono state invece trovate al primo piano nell'armadio della camera da letto. Orazio Di Pietro è stato invece arrestato perché trovato in possesso di un fucile detenuto illegalmente, puntato all'indirizzo dell'altro pastore e poi gettato in un rudere all'arrivo delle forze di polizia. Il fucile a Cannimozze aveva la matricola a Brasa. L'intervento dei militari dell'arma e degli agenti del commissariato di polizia ha evitato una tragedia impedendo a Di Pietro di rispondere al fuoco di Russotto, sebbene quest'ultimo, come dicevamo, avesse prima sparato da una distanza tale da non poterlo raggiungere. Inoltre, l'operazione di polizia con il sequestro dei due fucili utilizzati nella circostanza da Russotto e da Di Pietro e con il ritiro a scopo cautelativo dell'ulteriore arma legalmente detenuta, ha consentito di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica che sarebbe potuta essere gravemente compromessa a causa di un loro eventuale improprio utilizzo. Grazie a tutti.